umbria fino al primo marzo perugia dad per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado terni didattica in presenza al 50 per cento per le scuole superiori tutta la regione attività in presenza per le classi quinte delle superiori per le prove invalsi e per gli studenti delle superiori impegnati nelle olimpiadi della fisica 2021 grazie 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 grazie